e in questo video vorrei parlarvi di una chiara e importante caratteristica, anzi direi un ingrediente fondamentale per far sì che nel tempo si possa avere una chance in più per fare del trading il proprio mestiere e soprattutto quindi realizzare dei profitti ma non esponenziali tutti di un botto per poi rimangiarsi tutto ma costanti nel tempo. Credo infatti che sia proprio questo l'obiettivo di ogni trader, profitti costanti, magari non run up quindi corse molto elevate in poco tempo ma piano piano costanti profitti e piccole perdite. Ricordiamo sempre che per fare profitti, cioè i profitti di un trader non sono mai tutte le operazioni in profitto ma sono sempre la differenza tra operazioni che sono andate a buon fine e hanno reso un profitto e operazioni che invece hanno reso una perdita, la differenza come qualsiasi azienda, quindi conto economico, differenza tra questi ricavi, l'utile è dato dalla differenza tra le posizioni a costo, profitto e le posizioni in stop loss, chiamiamolo così, in perdita, che sono dei nostri costi. Questo è poi il risultato del trader. Detto questo, che ovviamente va sempre bene sottolinearlo perché comunque non è comune sentirlo ma è giusto ribadirlo, oggi vorrei parlare appunto di questo ingrediente principale, lo reputo veramente uno degli ingredienti fondamentali per fare un trading profittevole e lo ribadisco spesso, c'è già stato qualche altro video dove ne ho parlato in maniera diversa, questa volta invece vi faccio vedere proprio degli esempi, un esempio, due, direttamente sui grafici, dedicato proprio a questo ingrediente, a questa importantissima caratteristica che bisogna avere quando si fa trading. Infatti abbiamo visto alcuni video dove ho parlato di leve, di leva, e è proprio questo l'argomento di cui vorrei parlare, però in maniera operativa e dicendovi che è proprio questo l'ingrediente che non dovete utilizzare o utilizzare in maniera molto molto piccola, adesso vedremo, per far sì che questo trading poi sul forex diventi un trading possa, è una delle caratteristiche che vi possa far diventare più profittevoli e soprattutto più costanti. Negli ultimi anni in realtà c'è stato un abbassamento di quella che è la leva sul mercato del forex, almeno in Europa e diciamo che sia abbastanza uniformata anche con altri paesi del mondo, però fino a qualche anno fa diciamo che il mercato del forex è stato un po' una giungla perché c'era una leva molto alta di possibile utilizzo, quindi io aprivo dei piccoli conti anche con 300, 400, 500 euro e utilizzavo una leva molto molto grande, molto molto importante, addirittura c'erano broker che davano la possibilità di levereggiare 500 volte il capitale, quindi leva uno a 500. Questo ovviamente ha portato nel mercato forex tantissimi sproveduti, tantissime persone che pensando di riuscire a guadagnare tanti soldi con poco si sono buttati e poi tutta una serie di, come dire, anche di voci cattive che sono poi arrivate in questo mondo e quindi il trading sul forex è diventato un po' quel trading che lo fai se hai pochi soldi e che comunque perderai sempre, dove ci sono anche stati broker, chiamiamoli così, truffaldini, quindi un ambiente che spesso è visto un po' male o comunque è stato sporcato nel tempo da queste situazioni. Ecco, negli ultimi tempi comunque la leva per operare sul forex in Europa si è molto abbassata, oggi sulle principali coppie di valute è 1,30, quindi puoi leveggiare al massimo 30 volte il tuo capitale che per la volatilità del forex diciamo che va bene nel senso è un po' in linea con le leve sull'azionario che sono più basse ma l'azionario è molto più volatile, ha una volatilità molto più pazza, ricordiamo che nelle azioni c'è magari la trimestrale che esce, ci sono i dividendi, ci sono operazioni straordinarie che possono portare il titolo a fare dei gap molto importanti, la borsa apre e chiude, quindi aprire magari un giorno a più 6, cosa che ovviamente sulle valute se non le conoscete, ve lo dico io, non accade praticamente. Può succedere che nel weekend l'apertura tra il venerdì sera e la domenica sera perché il forex tiene aperto sempre ci possono essere dei piccoli gap, è successo raramente che ci sono stati gap così così forti da portare insomma a dei fortissimi squilibri dall'apertura alla chiusura, ma detto questo quello di cui io oggi vorrei parlare è proprio questo ingrediente principale che è l'utilizzo della leva. Allora oggi quello che voglio dirvi è se volete fare il forex dovete come in qualsiasi altro modalità di trading dovete essere un pochino capitalizzati, non pensiamo di fare trading con 300 euro, ecco con 500 euro, queste cose qua scordatevele, un pochino capitalizzati come in qualsiasi altro tipo di trading, sui future degli indici o sul mercato azionario si dà già per scontato che bisogna partire minimo con qualche migliaio di euro e sto dicendo già che comunque stiamo partendo bassi, quindi se non si ha soldi oggi non è che non possiamo fare trading, adesso magari possiamo pensare di studiare, di guardare, di capire e poi nel tempo magari risparmiare e avere tra qualche anno magari la possibilità di investire questi risparmi. Quindi se non si ha soldi lo se ne hanno pochi pochi il trading bisogna solo guardarlo ma non toccarlo, prima regola e quindi bisogna cercare di fare un trading, ovviamente bisogna formarsi, bisogna capire, ma soprattutto con del capitale, che qui non sto parlando di mettersi con un milione di euro, con 100.000 euro per fare trading, però almeno un minimo, io dico sempre che almeno quei 5.000 euro per partire, 3.000-5.000 minimo bisognerebbe metterli, però oggi non voglio neanche disquisire sul capitale di partenza, ma soprattutto sul non utilizzo della leva. Che cosa significa? Significa che nel mercato del forex se io apro un conto e metto su un broker inizialmente 5.000 euro, lavorerò sul mercato tendenzialmente con al massimo 5.000 euro, quindi è vero che il broker mi dà di default l'utilizzo del margine, quindi una leva 30, ma io non importa questa cosa e se ho 5.000 lavorerò circa con 5.000, se ho 10.000 lavorerò circa con 10.000, se ho 12.000 lavorerò circa con 10.000, se ho 20.000 eccetera eccetera. Quindi venendo a, in questo caso, il grafico che c'è sopra, che è il grafico dell'euro-dollaro, coppia di valute principale sul mercato delle valute, quello che voglio dirvi è che se io per esempio questo conto, mettiamo una cifra tonda, che non è né troppo grande né troppo piccola, che sono 10.000 euro per fare trading, lì vado a inserire, quindi vado ad aprire intanto un conto di trading con un broker serio, conosciuto, magari che abbia sede in Italia eccetera eccetera, quindi prima di tutto questo. E poi vado ovviamente quando ho le competenze necessarie per iniziare a fare trading, vado a utilizzare delle size di ingresso in posizione che sono circa quanto ho il conto. Vi faccio un esempio, se io ho 10.000 euro significa che quando vado a comprare o vendere, vi faccio proprio un esempio senza entrare a questo qui un conto reale, se io vado e prendo questo qui è un euro-dollaro standard, quindi in questo caso specifico ogni lotto standard vale 100.000, vuol dire che questo qui per me non va bene, perché se io ho 10.000 euro nel conto non posso lavorare con questo, dovrò lavorare con il mini, eccolo qua, euro-dollaro-mini. Euro-dollaro-mini significa che ogni contratto, vedete, vale un dollaro a punto e significa che per ogni contratto io vado a un controvalore di circa 10.000 dollari, quindi se io ho un conto da 10.000 euro e entro con un mini contratto di euro-dollaro, un mini CFD, un mini lotto, chiamatelo come volete, di euro-dollaro, una posizione mini, un mini, significa che sto andando circa a leva 1, anzi leggermente meno, perché oggi il cambio euro-dollaro vale in questo momento attuale 1.21.14, quindi vuol dire che per ogni euro io posso comprare 1.21. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'euro vale di più e quindi in questo caso non saranno 10.000 euro esatti, saranno un po' meno, però facciamo una cifra tonda, per esempio se avessimo 10.000 dollari sarebbero 10.000 poi dollari del controvalore che ho a mercato, quindi leva 1, quindi non guardiamo la leva perché comunque se io faccio così e metto un contratto, vedete, e faccio per esempio un long, eccolo qua, la richiesta di margine è 330 euro, quindi a me servono 330 euro per andare a mercato con 10.000 dollari, perché è la leva 30, 9.999. Mentre io non devo guardare questo, devo guardare solamente che ho un contratto, questo contratto ha un controvalore di 10.000, io ho 10.000 nel conto, vuol dire che non sto utilizzando la leva, sono leva 1, quindi non sto utilizzando la leva. Questo secondo me è il modo più giusto, adesso ritorno sull'altra che non ha tanti disegni, ecco qua, ritorno qui sul grafico e vi faccio vedere. Questo, vado sul mensile, in questo caso specifico come potete vedere c'è praticamente una situazione, prendendo proprio il momento in cui l'euro è stato quotato, eccolo qui, abbiamo praticamente, ma bisogna andare anche prima, ecco qui, euro-dollaro, vedete come il mercato, se noi andiamo a prendere il righello e andiamo a prendere questo, ecco qua, noteremo che qui abbiamo, sì, 7.800, facciamo anche 8.000, no? 8.000, 8.000 pips, cioè vuol dire che l'euro-dollaro da quando praticamente è nato ha avuto un minimo qui a 0.80, a 0.81 e ha avuto un massimo in area 1.60, 1.60 e 50. La differenza di pips dal minimo 0.82 al massimo 1.60 e 50 sono circa 7.800 pips, facciamoci fra tonda 8.000 pips, vuol dire che nella storia di questi vent'anni dell'euro-dollaro, l'euro-dollaro 1.000 pips sono tanta roba, no? Sono tantissima roba, tantissima, infatti poi in realtà se ne guardiamo gli ultimi anni, dal 2015 ad oggi, in realtà c'è anche un mercato che è rimasto molto più strecciato, molto più schiacciato, però sappiamo che nella storia c'è questo, sappiamo che il mercato del Forex è un mercato che tende a ritornare un po' sui suoi livelli, ricordiamo che è il mercato delle monete, quindi non è un titolo azionario che inizia e magari tipo Tesla o tipo Microsoft o tipo Apple o Facebook, eccetera, eccetera, dove magari l'azienda continua a macinare utili, continua a essere più capitalizzata, il mercato la compra e questo titolo continua a salire. Quindi stiamo parlando di Forex, mercato delle valute. Io che sono un Forex trader, lo conosco molto bene e vi dico che tendenzialmente voi andate a prendere qualsiasi grafico, potete prendere tutte le varie situazioni dei mercati principali, quindi la sterlina, lo yen, eccetera, avrete un massimo e minimo. Ovviamente questi possono essere violati, quindi l'eurodollaro magari chissà, può essere che da qui a vent'anni magari si possa andare sotto lo 0,80 o si possa andare anche sopra l'1,60, ovviamente tutto è possibile. Però al momento questo è il movimento. Quindi se io adesso provo a pensare e dico bene, entro con una posizione long o short, quindi in acquisto, quindi per un rialzo o in vendita, e ho 10.000 nel conto e non utilizzo la leva, quindi vado e prendo questi 10.000, vuol dire che io avrò un dollaro per ogni punto. Quindi se io vado a prendere qui la calcolatrice e calcolo il mio dollaro per gli 8.000 pips che ha fatto in tutti questi anni, cosa significa? Ve lo faccio vedere anche se 1 per 8.000, 8.000. Quindi vuol dire che io non stando a leva, non ho la possibilità, cioè vado a prendere l'eurodollaro, quel controvalore che ho nel mio portafoglio, che ho nel conto. Quindi utilizzo il mio conto e utilizzo quello che ho nel conto per fare trading. Non vado a usare contratti maggiori, uso quindi delle piccole size. Ovviamente se avrò 100.000 euro nel conto potrò utilizzare quei 100.000, oppure anche meno, voglio dire, anche con 10.000 posso utilizzare anche i microlotti, quindi posso andare dentro con 7.000, 5.000, non è detto che. Però ecco, io sto parlando di rimanere sulla leva o al massimo meno della leva, o al massimo un pelo in più, non troppo in più. Questo ovviamente, poi io ho una gestione del rischio, quindi mi viene anche naturale perché utilizzo degli stop molto ampi e quindi questo è anche normale perché si va praticamente ad avere spesso, addirittura a volte si lavora anche sotto leva in realtà. Però in questo caso vedete com'è una situazione chiara. Quindi se io per esempio ho una situazione dove entro a mercato e decido di fare una posizione long, per esempio di euro-dollaro e voglio investire sull'euro e vendere dollari, è un esempio che adesso non è perché lo devo fare, ma una cosa di questo tipo e voglio comprare, a quel punto io posso avere ovviamente posizione degli stop, ma provate a pensare, se nel momento in cui io vado a prendere, quindi a comprare, compro qui e il mercato mi va contro e mi va contro e mi va contro e mi va sotto uno, quindi mi va proprio contro contro, qui praticamente il movimento è stato di 2.000 pips. Io con i miei 10.000 avrò una perdita di quanto? Di 2.000 euro, 2.000 dollari in realtà, un po' meno di 2.000 euro. Avete capito? Quindi è vero che non è che devo lasciarla andare fin là e avrò ovviamente una gestione dello stop un po' più ovviamente oculata e quando la posizione poi non ci dà più quello che vediamo che non è più una posizione da tenere anche in perdita bisogna chiudere. Però vedete che già non utilizzo della leva, io anche se da 1.21 questo mi va sotto a 1, quindi 2.000 rotti pips, 2.000 pips, io comunque in quel modo con capitale di 10.000 sto perdendo 2.000, non sto perdendo di più di quello che ho sul conto o cose di questo tipo, no? O tutto il conto. Quindi, e qua stiamo parlando di movimenti enormi nel mercato Forex, enormi, non stiamo parlando di, quindi se andiamo sul giornaliero per esempio, se io entro short dove sono adesso e quindi in vendita e ho e entro con i miei 10.000 che ovviamente ho, ed è il mio conto, 10.000 e quindi andiamo a vedere e questo, metti caso, mi va anche sopra, 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 qua, boom! Qui 338 pips, cioè significa che comunque io sto perdendo in quel momento 338 dollari che sono, hanno 290 euro al cambio attuale. Quindi vedete come anche con movimenti importanti comunque con una gestione del rischio molto, molto oculata e soprattutto il non utilizzo della leva, avremo una gestione molto più tranquilla e rilassata e questo ci permetterà di gestire le operazioni del nostro trading in maniera molto più facile, in maniera molto più disinvolta, in maniera molto più sicura, chiudendo l'operazione anche quando è in perdita nei momenti in cui diciamo sì, in effetti adesso non ha più senso stare a mercato perché in effetti magari è cambiata la scena e perderemo poco. Perché? Perché è tutto correlato ovviamente alla leva. Anche i guadagni in realtà non saranno elevati come con l'utilizzo della leva. Saranno però, e quindi lì è la bravula del trader, più elevati nel momento in cui avremo la possibilità di lasciare il mercato quando è dalla nostra parte, lasciarlo andare e chiuderlo nei momenti in cui sta per girare, quindi quando fa degli swing, quando è su dei livelli importanti e invece abbandonare l'operazione quando probabilmente anche in perdita non è più, non ha più senso stare dentro. Quindi avete capito, la leva alla fine è un acceleratore delle vostre perdite. Dopo sicuramente nei commenti mi scriverete eh ma io faccio scalping con 6 pips e inizio a leveleggiare e chi se ne frega. Quindi questi commenti qua potete anche metterli ma io come li leggo mi entrano da qua e mi escono di là. E non è sicuramente quello il modo per fare un trading di successo, profittevole, costante, professionale. Ok? Bene, detto questo mi sa che ho fatto un bellissimo video, una bella pillola. Riguardatelo, riascoltatelo, non utilizzate la leva, fate trading sul Forex ragionando. Io a questo punto vi saluto ma prima di salutarvi vi chiedo di lasciare un bel mi piace nel video, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ovviamente ci vediamo al prossimo. Ciao a tutti!